Ciao Youtubari, non so se mi vedete perché ho la macchina fotografica e non il telefono quindi non so se mi sto riprendendo. Siamo qui a Moncrivello, oggi dopo anni, tipo uno ziglione di tempo, faccio il secondo video dove incontro una scuola di scherma del Piemonte e oggi tocca ai Duellanti che è una bellissima scuola e sta diventando sempre più grande e siamo qui a Moncrivello in una delle loro sedi e andiamo a trovare. Ciao Massimo! Ciao Federico! Ciao ragazzi, come vi dicevo oggi sono qui con Massimo Capello che è il capo istruttore dell'Accademia di Duellanti. Ciao Massimo! Ciao Federico! Grazie mille! Oggi siamo qui e volevamo parlarvi un po' di come questa Accademia è nata, cosa viene praticata, quale disciplina viene praticata in questa Accademia, qual è la storia di Massimo come istruttore e via discorrendo. Vedremo anche se non un po' di pratica ovviamente all'interno di questa sala che è a Moncrivello, come vi dicevo prima. Massimo, da cosa cominciare? Allora, partiamo prima di tutto con le tue esperienze nel campo della scherma storica e affini. Beh, le mie esperienze nella scherma storica, vabbè, intanto prima della scherma sono nato in particolare con il tiro con l'arco, prima di tutto abbiamo iniziato questa esperienza diciamo con il tiro con l'arco, per fartela breve poi questa esperienza del tiro con l'arco si è spostata nell'arco storico, subito e immediatamente, facendo un arco storico, rievocazioni storiche e facendo queste rievocazioni storiche con il tiro con l'arco lì abbiamo visto la luce, come si dice, abbiamo visto la luce e allora abbiamo visto per queste spalle, per questi personaggi che tiravano di scherma, per noi è una cosa che è roba, e da lì abbiamo incontrato un gruppo che è la Federazione Italiana di Schermatica Storica e da lì si è deciso di provare a intraprendere questa cosa della scuola di sé e questo è lontano, mi sembra, sono circa 25 anni fa poi alla fine. e niente, cominciamo a intraprendere questa esperienza, per sei anni siamo stati in federazione e niente, abbiamo cominciato in effetti a capire come funzionava, a tutti i tempi questa cosa della scuola di Schermatica. Guarda, una cosa interessantissima è che vedere quanto è simile il background di tante persone diverse anche a distanza di 10-15 anni e tutti partono sempre dalla rivoluzione, anche il primo episodio se l'avete visto, se non l'avete visto guardatelo e vergognatevi che non l'avete visto ancora. Tuzoni, che è il struttore dell'Espirio del Lupo, anche lui è partito dalla rivoluzione storica quindi è sempre particolare, questo approccio, questa strada che si porta tutti alla scherma storica in un modo allenato, o quasi tutti. Anche perché era il mondo più, forse anche più semplice di poterla conoscere perché già si fa fatica anche oggi a far conoscere questa disciplina, figuriamoci 25 anni fa perciò la rivoluzione era il modo per vedere questi combattimenti, questi cavaliere, insomma armature, ponte di maglia, spada e scudo che erano le cose di prima, di Prisciel spada e scudo, questa cosa che è da lì, insomma, è la buona faccia. E quindi il tuo percorso piano piano si è voluto, la tua passione è diventata sempre più importante, diciamo. Abbiamo fatto una veloce carrellata, come avete già visto quando siamo entrati in questa palestra e la vedrete ancora durante le prossime immagini, durante la pratica. Massimo non è solo un istruttore di scherma, ma è anche un collezionista di anni antichi, o con oggetti antichi a fine alla scherma, maschere e anche trattatistica. Quando è che hai deciso questa roba? Come è nato tutto questo? È nata conseguentemente. Il collezionismo, secondo me, ci nasce, cioè il collezionista ci nasce a prescindere da quello che fai, perché, insomma, è una cosa che proprio, secondo me, tutto nasce, cioè, cominciando a fare queste, seguendo la scherma, secondo i corsi di scherma, comunque, facendo questa disciplina, chiaramente, immediatamente, cominciare a aprirsi questo panorama, come prima i mercatini dell'antiquariato, e che allora tutti, ogni ferro, ogni, diciamo, bacchetta arrugginita che veneva in questi, questi banchetti, no, inquadrava tutte spade, no, potevano essere bastoni delle tende, in realtà, ma la visione era, e allora si comprava di tutto, dei rottami pazzeschi, perché poi, cioè, erano le prime cose. Poi, naturalmente, questa, questa cosa continua, perché non ti prende e non ti lascia più, ogni tanto devi darti dei freni, perché, o si è ricchi, o, se no, diventa un grosso problema, e allora, piano piano, si comincia un po' a selezionare, un po', come tutti, no, nella propria, e allora ho cominciato a colezionare, perciò partendo con mio lucino, che è di Walter, che è uno dei fondatori, anche, dell'Accademia, dei quattro fondatori che siamo, e questo è una cosa che non è giusto, ma si sa, siamo in quadro con i fondatori dell'Accademia, e allora cosa succede? Girando questi mercatini, un po' quelle aste, un po' tutto quello che, insomma, alla fine si è raccolto in 25 anni, non lo sappiamo bene in realtà, però, dovrebbero essere circa 300-350 pezzi, comunque, di varie nature, tra le divini, tutto da scherma, è comunque riferito alla scherma, all'addestramento e altrimenti. Quindi, comunque, è una collezione importante nel strato. Sì, sì, è abbastanza importante, sono po' di pezzi, ce n'è diversi, e stiamo continuando. Bene, bene, perché ho voluto molto adesso, è anche passato, di vedere un po' di pezzi, ovviamente io sono super geloso, però, vediamo, non lo vediamo. C'è ancora giovane, Henry. Allora, andiamo avanti. Quali sono le discipline, questo è importantissimo per i ragazzi che vogliono un anno, spero venire a praticare, vedendo questo video, che praticate all'interno della vostra sala, all'interno delle vostre sale, perché sono due, giusto massimo? Mi sto dimenticando. Sono tre in realtà. Sono tre. Una ce l'abbiamo ad Aosta, una ce l'abbiamo qui, che è la sede, che c'è l'Accademia, e una da Alessandria. Molto bene. Quindi, ricordatevi, se vedete questo video, Aosta, Alessandria e Moncrivello, Moncrivello che è in provincia di Vercelli, e a dispetto di quanto uno possa pensare, non è affatto difficile da raggiungere, anzi, se potete venire a praticare in questa sala, visto che è bellissima, mi temi qui. Detto questo, quali sono le discipline che praticate? Allora, quello che praticiamo in tutte le sale è la sciamola, sostanzialmente la sciamola da terreno, così detto sciamola da terreno, sciamola da duello. Abbiamo unificato quest'arma sostanzialmente in tutte le sale per un fatto anche logistico, cerco di riuscire a dare, sostanzialmente, a tutti gli allievi la stessa intensità nell'insegnamento, per evitare di cambiare arma in una parte o nell'altra. Abbiamo scelto la sciamola perché è un'arma che molti, anche nel passato, hanno considerato molto poco, e allora cosa mi ha stimolato assolutamente? Sì, assolutamente. Non so sempre di cosa contrarre, sostanzialmente, perché si diceva che la sciamola era un'arma concretamente limitare, perciò non era considerata onorevole quest'arma. Qualcuno diceva che era più facile di tutte le altre, e allora la consideravano meno, non capendo che poi in realtà era più facile di tutte le altre, perché nella trattatistica del termine è sempre insegnato per ultimi, automaticamente. Avendo imparato tutto il resto, certo che diventa più facile, ma se tu la prendi e la porti davanti assolutamente diventa più difficile. Perciò abbiamo deciso appunto di continuare con la sciamola. Anche se mi ricollego un po' alla storia, alla nostra storia, alla mia storia della scherma, abbiamo fatto striscia, spalla da lato, ho fatto molto poco la due mani, lo faceva appunto uno dei fondatori dei miei colleghi, perché avevamo delle sale diverse, adoravamo delle federazioni, e allora abbiamo fatto anche dei percorsi leggermente diversi. Perché mi ricollego a questa cosa della storia? Perché quando noi siamo usciti dalla federazione, perché eravamo semplicemente pochi in sala, non c'era più la struttura che poteva reggere praticamente il corso, abbiamo deciso di smettere. Abbiamo deciso di smettere e per due anni siamo stati ai tempi fermi. Poi uno dei vecchi duellanti, dopo un paio di anni, mi richiama, mi dà un colpo di telefono e mi dice Massimo, quando è che ricominciamo a tirare di scherma? Quando ho sentito questa parola e non so spiegarvi, non so spiegarti il motivo, si è acceso qualcosa, abbiamo ricominciato sostanzialmente a ripraticare questa schermastorica. Al che praticando questa schermastorica cosa succede? Vado a fare da un maestro dell'est Europa, partecipo a uno stage di striscia italiana. Molto bravo, assolutamente, non ho niente da dire, ma mentre ero lì a fare questo stage di scherma italiana, dicono, io sono qua, sto facendo questo stage di schermastorica di striscia e di italiana da un maestro dell'est Europeo. Perché? Mi si è acceso la lampadina e ho detto, perché io ho fatto anni di striscia? Perché non posso farlo io? Certo. E allora lì parte di nuovo questo, parte di nuovo il tutto, questo pavone caravese, perciò ricominciamo ad avere una sala lì, una piccola sala, cominciamo piano piano e poi per chiudere il discorso punto di prima, nel 2015, per farlo proprio breve, ci andiamo avanti, nel 2015 decidiamo, tra i quattro fondatori rimasti sostanzialmente, di dare un'ufficialità all'Accademia. fondiamo l'Accademia Due Lanche, proprio a livello ufficiale, a livello fiscale, comunque come ASD, e dal 2015 adesso siamo ripartiti appunto con queste cose. E in effetti si sceglie e poi appunto, come ho spiegato prima, la sciabola. Perché è un'arma che ci piace particolarmente e per i motivi. Certo, certo. Ho avuto modo di trovare anche le nostre nuove sciabole, facendo una carrellata qui in giro, le vedremo, tra l'altro è molto interessante e sono molto piacevoli da usare, soprattutto perché sono molto simili a quello che in teoria dovrebbe essere una sciabola dell'epoca, come pesi, strutture eccetera. Praticare la sciabola ho visto che è paradossale, perché dovrebbe essere uno degli ultimi anni che è stato utilizzato veramente, è difficile perché non ci sono sempre simulacri realistici, diciamo, o meglio è più facile trovare sciabole sportive moderne che sono molto più leggeri. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti ci abbiamo lavorato, insomma, ci abbiamo lavorato un anno praticamente per questo nostro fornitore, per cercare di appunto realizzare una sciabola che sia assolutamente più vicina alla realtà, avendone comunque in collezione di sciabole un pochino più semplice, però riprodurre in effetti una cosa che in tempi si faceva diciamo per vivere, per utilizzarle per il duello, comunque non è stato proprio semplicissimo. Però ci siamo riusciti e adesso però vedo che comunque, anche nella sciabola da terreno o comunque quella da duello, molti fornitori si stanno attrezzando quanto riguarda le sciabole perché è un'arma che cominci veramente a piacere molto e allora come sempre si allarca è un'arma che 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 è molto interessante anche perché appunto avendo provato in alcune occasioni anche con i ragazzi livellanti a tirare di sciabola, se voi non l'avete provato posso dire che è effettivamente molto interessante, è un'arma molto piacevole e per niente semplice. Perfetto, allora tornando in tema, ultima domanda veramente importante che volevo farti è qual è la tua trattatistica di riferimento, a quali maestri ti ispiri e diciamo appunto quali sono i trattati che hai ispirato in più? Allora, la trattatistica di riferimento per quanto riguarda la sciabola in effetti passa tra, anzi ti racconto questa cosa che mi è capitata appunto affrontando questa cosa della sciabola, avendola già fatta vabbè anche in passato in federazione, però chiaramente adesso gestendo la parte tecnica dell'Accademia ho dovuto naturalmente ampliare il mio studio e cercare di creare un mio, sostanzialmente un mio metodo. Allora prendo di riferimento il Masanello Parise che era il trattato di riferimento dell'esercito sostanzialmente, perciò è quello più conosciuto, e il trattato del Radaelli che sono le due scuole imposte sostanzialmente del nord e del sud con due tecniche totalmente diverse, uno nell'utilizzo assolutamente frontale della sciabola e invece del Radaelli con questi grandi comuni lenti di braccio e queste cose. Vedo questi, cioè studio, questi due trattati e naturalmente penso, ma perché non inventare una cosa nuova? E allora decido di fondere queste due tecniche e creandomi un mio metodo. Stavolta ho scoperto una roba, faccio una roba che non ha mai fatto nessuno. Peccato che poi, venendo in possesso del trattato del Pecoraro Pessina, mi accorgo dalle prime pagine mentre comincio ad aprirlo che l'avevano fatto lui, sostanzialmente sì, l'avevano fatto lui. Allora io leggo e leggevo questo trattato con il fatto che avrei voluto, cioè sembra che l'avessi scritto io, perché in realtà era l'idea che avevo e naturalmente hanno scoperto l'acqua calda, e invece noi inventando solo ci puoi inventare tutto. Perciò comunque Pecoraro Pessina, poi, vabbè, molti altri poi alla fine, perché prima nella sciavola ce ne sono molti, continuo perché continuo il mio percorso, continuo a modificarlo anche in certi casi, perché continuando a leggere, a studiare, comunque a vedere metodi diversi, naturalmente si aggiunge o si toglie se si capisce il percorso, perché ci sono stati parte via degli errori poi magari, delle cose che magari preferisco di altre o che siano assolutamente più logiche, che è quello su cui io baso il mio medio, cioè la logica. Cerco di analizzare nel limite del possibile la trattatistica e utilizzare la mia logica, cioè quello che funziona e quello che non funziona. Naturalmente curando assolutamente lo stile, perché per noi è importantissimo. Per noi la bella scherma è lo stile e per noi l'Accademia è fondamentale. Assolutamente. Piuttosto che l'efficacia, che in teoria è quello più importante, però a noi piace rifonderla. Personalmente ho spento due parole, come al solito divagando un pochino, ma in realtà sono molto adattato con te, perché io comunque penso che si possa ottenere dei buonissimi risultati al termine di efficacia, ma anche comunque mantenendo un determinato stile. Comunque stiamo badando anche all'estetica e in un certo per modo. Sono certe volte anche le azioni migliori, ma lo sapete, risultano anche essere quelle esteticamente più appaganti. Sì, anche perché poi essendo considerato comunque un'arte, perciò come arte in sé, giustamente deve avere la sua parte artistica o comunque la sua parte anche figurata, in un certo modo. Perciò vedere tirare dei personaggi di sciabola, a me piace vedere lo stile delle sciabole. Cioè a me piace vedere se con uno stile tira con la spalla da lato, vedere il proprio stile. Chi tira con le due mani vede lo stile con le due mani. In modo che ogni arma di ogni epoca abbia un proprio stile, diciamo definito. Sì. Che poi hanno le proprie varianti, dei vari trattatisti, delle proprie movenze. Però che sia bene che abbia un'identità. Certo. Quello che non importa sia per quanto riguarda l'abbigliamento, le divise. Cioè dare alla scherma storica in effetti un'identità precisa che nulla possa riconoscere. Certo. Mi vederà. Assolutamente. Sono molto d'accordo con te. E... Vabbè grazie Massimo per l'intervista perché sei stato... Vedi che grazie a te Federico, la mia prima. Faccio... Così. Somma. Ma benissimo Massimo. Somma. È facile raccontarsi o comunque raccontare quello che... Cioè ha un certo capisco. Purtroppo eh... Purtroppo eh... Non abbiamo tantissimo tempo e immagino che... L'articolario... Purtroppo abbastanza. Purtroppo perderci. In questa cosa. Magari avremo occasione in futuro. Ci saranno altri video e chi lo sa. Prendremo a trovare di nuovo l'Accademia di Bellanti. Quindi magari parleremo d'altro. È stato un piacere Massimo. Grazie Federico, grazie a te. Ehm... A questo punto potete venire a trovarci nelle nostre sale. A fare una prova. Abbiamo una sala da Allrats, una a Montcriveti in provincia di Vercelli e una a L'Alessan. Sarete benvenuti alle prime due prove gratuiti. Wow, perfetto. Grazie Massimo. Grazie Federico per la cosa che ci ha dato. È stato assolutamente divertente. È stato un piacere. e grazie a tutti i vostri ragazzi e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti